1 2 1 2 su e a me ah finalmente siamo arrivati, meno male, tutta questa gente ci sta, non me l'aspettavo, ma avete preparato una siggia? grazie, grazie grazie, grazie, facetemi a settava signori e signori, oggi mi sono sviati che le palle girate, perché sono da provare per la decima volta di seguito l'esame di geometria e la Berardi mi ha bocciato, sì signori, per la decima volta ma io continuerò a provare l'esame finché non vedrò il 18 sul libretto e se non me lo registra faccio un casino in segreteria eh scusa pa, ti posso dire un attimo una cosa? eh? che hai fatto? vedi quel signore là col casco, ieri mi ha offerto l'MS sì mamone, in benze, ma ne vuoi a me e guardiamci se giovani voglio ecce quando non lo cuore sei sicuro? sei sicuro sei sicuro ce l'ho allenato per due anni e mezzo l'ho fatto che vincenze che rompevi l'icolione pare scotterà fit stupendo stupendo e ora facemi vedere che sei capace a proposito, avete visto quello che ha fatto giù di geometria? ma che pazz scegliere i'm a super hero! i'm a super hero i'm a super hero! i'm a super hero! i'm a super hero! i'm the hero of today, yeah! Davide Alla Di canaro es cattile Più Sì E o er ah ah ahahahahah ahahah tanto 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 Scream for me A romantic modern hero AHHHHH 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 RUN I'M A SUPERHERO I'M A SUPERHERO I'M A SUPERHERO